Ci troviamo a Sanremo, una giornata importante per la pesca e per il turismo. Il GAC Liguria incontra il GAC Sardegna, una giornata molto importante. Il progetto ha reti lunghe. Diamo atto all'accordo di cooperazione con il GAC del nord Sardegna, ospitando una ventina di pescatori. Questi accordi servono sia per mettere in comune le cose positive che sono state riscontrate dalle due marinerie, ma anche le criticità che si sono incontrate, soprattutto per quanto riguarda la diversificazione delle attività di pesca, quindi pescaturismo e titurismo. Lo stesso accordo di collaborazione l'abbiamo stipulato anche con altri due GAC, il GAC della regione del VAR, quindi il GAC francese, e il GAC della Catalogna. L'idea ambiziosa che abbiamo è quella di arrivare a stilare un documento comune da poter presentare poi alla Digi Pesca presso l'Unione Europea. E qui con noi Benedetto Secchi, presidente GAC Sardegna. È venuto appunto per questo scambio di idee al pescato in base al turismo. Com'è la situazione attuale? Intanto siamo qui con una delegazione di pescatori e anche di operatori della filiera etica che riguarda soprattutto il nord Sardegna. Ci interessa intanto avere uno scambio con gli operatori della Liguria, c'è molta affinità tra la Liguria e la Sardegna, anche dal punto di vista culturale, non soltanto delle tradizioni del mare. La nostra azione, che poi ripeteremo in Sardegna a fine di giugno, invitando i pescatori Liguri, vuole dimostrare che il settore itico è un settore che si può riprendere. Ha un po' di problemi, un po' di crisi, ma con la diversificazione del pescaturismo e dell'ititurismo e soprattutto valorizzando meglio il prodotto cosiddetto povero, quello che sui mercati oggi per i consumatori diventa un prodotto non più accessibile. Invece vogliamo dimostrare che è un prodotto che ha qualità organolettiche interessanti, costa meno e soprattutto può essere anche utile dal punto di vista dello sforzo di pesca, perché diversificando l'attività di pesca, però a specie diverse, ovviamente migliora complessivamente la qualità degli stock ittici. Salvatore Amoroso, Presidente Cooperativa Pescatori Sardi. Com'è la pesca nell'asinara? Il problema nostro maggiore è il discorso del famoso pesce povero, che è povero soltanto per il nome, è per il discorso che non si riesce ancora a trovare un mercato che lo valorizzi. Infatti appunto per quello siamo anche qui per varie esperienze. Nello specifico che pesce troviamo proprio? Allora, nel pesce specifico c'è la boga, i savarelli e la salpa. Sono i pesci dei tipi poveri, ma sono una ricchezza del nostro golfo. Come si pescano? Con le reti a tremaglio, a nasse, diciamo quelle che si usano maggiormente nel Mediterraneo. Qual è il pesce proprio più principale, più ricco? Che ce n'è in abbondanza? I pesci di abbondanza sono le salpe. È un prodotto che viene detto il maiale del mare e quindi noi stiamo cercando appunto di valorizzarlo anche all'interno della grande distribuzione e della ristorazione. Si parla anche di pescaturismo? Sì, esatto. Noi nel periodo estivo infatti facciamo appunto la pescaturismo e il cucinato a bordo e appunto già stiamo iniziando cucinando il pesce povero per farlo già gustare al turista in modo che poi lo richiede anche dopo. Come il turista è ricettivo? Cioè il turista accoglie bene questa iniziativa? Sì, sì, benissimo. Anzi, gli piace. Infatti stiamo vedendo che l'attività sta aumentando e a noi ci fa piacere perché facendo così oltre ad arricchire il pesce povero si fa una diminuzione anche del sforzo di pesca. Quali sono i problemi comuni? I problemi comuni sono sicuramente quelli della necessità di accorciare la filiera. Adesso vediamo qua in banchina a Sanremo che i pescatori riescono a vendere direttamente in banchina. Questo è un buon modo di procedere. A noi interessa questo sistema. Quindi anziché avere un prodotto che passa da più mani è preferibile un prodotto che è tracciato quindi garantendo il consumatore compia un percorso quanto più possibile corto per arrivare sulle tavole sia nei ristoranti sia nelle tavole delle famiglie. Questo è qualcosa che ci accomuna nel senso che poi facciamo un tipo di pesca molto simile che è la pesca artigianale prevalentemente che quindi ha necessità anche da parte della comunità europea di un occhio di riguardo in maniera tale che non si normi un settore pensando che il mal baltico sia uguale al Mediterraneo. Sono due cose diverse, contesti diversi e vanno ovviamente normati in maniera diversa.